L'ufficio Informa Giovani del Comune di Bologna offre tanti servizi per gli under 35, tra questi l'aiuto di psicologi specializzati. Mattia Martini. Sono 200 all'anno, 5 a settimana, gli incontri gratuiti con uno psicologo del centro d'Edalus messi a disposizione dal servizio PSIMBO dell'Informa Giovani del Comune di Bologna. A rivolgersi allo sportello sono più le ragazze, 25 anni, l'età media. Studenti fuorisede e giovani lavoratori. Solitamente vediamo che ci chiedono aiuto nei momenti di crocevia della vita, quindi alla fine dell'università, quando si stanno cercando lavoro, quando desiderano un lavoro diverso da quello che hanno. Dal 2014 a oggi sono però cambiate le ragioni che spingono i giovani a rivolgersi a questo servizio. Quando abbiamo aperto anni fa è stata proprio un'inondazione, possiamo dire così, rispetto all'ansia e gli attacchi di panico che in quel momento erano il sintomo maggiore. Pian pianino si stanno rivolgendo a noi anche persone con problematiche molto diverse e anche molto più impegnative da gestire. In crescita soprattutto le difficoltà relazionali e i problemi nella gestione di impulsi come la rabbia e gli atti autolesivi, in calo agli stati depressivi. Ma oltre a questo l'informa giovani contattabile nell'ufficio fisico, sul sito e sui social offre molti altri servizi per rispondere alle esigenze più diverse degli under 35 che principalmente cercano un lavoro o un'opportunità formativa. Lo sportello del commercialista per chi vuole aprire una partita IVO, vuole creare un'associazione, lo sportello dell'autoimprenditorialità, chi ha voglia di diventare imprenditore di se stesso, lo sportello del consulente del lavoro, lo sportello sulla mobilità internazionale. In più organizziamo degli incontri tematici. L'informa giovani è anche uno spazio laboratorio che ospita tirocinanti e volontari del servizio civile.